Segnatevi questo sito chiodiapaga.it, una piattaforma gratuita per poter offrire supporto alle vittime di hate speech e cyberbullismo permettendo di denunciare subito un attacco. Tutto questo fatto con un algoritmo che ti dice se sei stato vittima di odio online. Andando a vedere migliaia di casi, più di 1500, tra l'altro sentenze passate e consulenze di avvocati specialistici in rete. Argomento interessante soprattutto in un'epoca in cui siamo sempre più sotto attacco di malignità, di problemi e chiaramente conoscete bene il cyberbullismo come assolutamente problema non soltanto per quanto riguarda i ragazzi nelle scuole ma anche gli adulti online. Bene, allora, questo fondamentalmente è stato ad aprire la strada a questo diarete costa, a questo sito impegnandosi ad applicare il codice di condotta per contrastare l'illecito incitamento all'odio online. Sottoscritto, chiaramente, ora sto leggendo da Wired tra la Commissione Europea e le principali piattaforme social. Molto interessante e volevo segnalarlo non soltanto perché magari vi può essere utile, mi auguro, spero di no a voi personalmente o qualcuno, qualche persona cara, quanto in realtà c'è ancora molto da fare come spirito di iniziativa, come riflessione per questa giornata perché è chiaro che ad oggi c'è ancora molto da costruire e ho provato chiaramente il test online facendo, rispondendo a una serie di domande tra le più semplici ma allo stesso momento le più agghiaccianti, le più preoccupanti, le più distabilizzanti, soprattutto in un'ottica di contenuto dove in realtà ad oggi conosciamo bene gli insulti che ci arrivano online, conosciamo bene quali sono i problemi, siamo lontani, diciamo così, dall'ignoranza. Ma c'è ancora tanto da fare per cui chiodiapaga.it andate sul sito, verificate anche un po' tutte le fonti come ho fatto, chiaramente se ve lo segnalo c'è un motivo ma dall'altra parte può essere un'idea anche da portare intorno ai nostri uffici, intorno alle nostre comunità di come sia ancora molto complicato avere un ottimo rapporto con il digitale, un rapporto sano, sembra per assurdo talvolta distorce la realtà alcune cose non le scriveremmo mai via lettere, alcune cose non le diremmo mai in pubblico e soprattutto non le diremmo in faccia alla persona che in qualche maniera abbiamo davanti invece sul digitale, invece sul social in qualche maniera accende la nostra nevrosi, la nostra distanza il nostro bias cognitivo tra quello che è il digitale che sembrerebbe ma non lo è non reale a quello che è il reale concreto fuori per strada nella vita quotidiana. È un argomento che torna anche nelle aziende dove il mobbing, dove alcune tematiche di gestione assolutamente non corretta dell'ambiente lavorativo avviene continuamente, dove talvolta è difficile andare a capire che cosa succede e se si è in diritto o se si è in torto a denunciare. Bene, questo sito comunque ci può aiutare per late speech, per il cyberbullismo, per cui banalmente compilando questo piccolo questionario possiamo capire se abbiamo la possibilità di avvalerci di un avvocato e se chiaramente c'è un'opera criminale, criminosa in atto. Per oggi abbiamo finito, questo è il caffettino, Mario Moroni sono io e ogni giorno parliamo di start-up, di business, di novità della tecnologia e di tutto il mondo dell'informazione anche e non soltanto digitale. Se vi va www.mariomoroni.it dal lunedì al venerdì ogni singolo giorno sono qui per voi alle ore 7.30 e insomma se volete scrivermi seguitemi pure su LinkedIn dove facciamo una live ogni venerdì alle ore 13 e anche su Instagram e su tutti gli altri social oltre che sul mio sito mariomoroni.it. Con oggi ho finito, fate i bravi, mangiate le verdure e cercate come me un po' ci provo anch'io di vivere in maniera positiva, rilassata, che i problemi ahimè sono altri e di non farci condizionare dagli ambienti esterni negativi. Un abbraccio, ciao!